Allora, a Palazzo Chilini, sede della provincia di Alessandria, con gli amici di San Salvatore, in particolare con il sindaco Corrado Tagliabue, per raccontare tutto quello che succede a San Salvatore da adesso in poi, insomma, festa della Repubblica, prima festa, eventi estivi, come li sintetizziamo in pochi secondi? In pochi secondi? Beh, questa sera inizia la settimana della Repubblica, la proiezione del film Noi Credevamo e per alcuni giorni parleremo di festa della Repubblica. Ma il 4 e il 5 giugno inizia la prima festa, la festa patronale di San Salvatore Bonferrato. In particolare noi festeggiamo il patrono che in realtà è simboleggiato dal miracolo della Madonna del Pozzo che avviene nel 1616, proprio in occasione della Pentecoste. Banchetti, 70 espositori, 70 espositori, l'infiorata al Santuario della Madonna del Pozzo, tantissimi eventi ed appuntamenti, una serata di gala con una cena all'aperto, chicche e particolarmente curata da parte della Proloco, si pranza e si cena il giorno di domenica e alla sera di domenica uno show di luci spettacolare alla sera, quando ormai sarà buio e la festa giungerà a conclusione. Saranno due giorni intensissimi dove vi invitiamo tutti a venire a San Salvatore.